Gerone, prima doppietta in maglia a Vezzano, un'altra grande prova, state scalando la classifica. Sì, più che della doppietta mia, parlerei della prestazione ottimale della squadra, non era facile, anzi voglio fare i complimenti ad Ambrosio che ha sostituito nel migliore dei modi un elemento importante come noi, come Persia, si è fatto trovare pronto, prontissimo, questo sta a dimostrare che gruppo c'è e che attenzione agli allenamenti che c'è, questi sono i risultati insomma. Sinistro sempre vellutato. Sì, dai, facciamo quello che si può. Un Avezzano che ha altre due trasferte e una gara casanica per chiudere il girone d'andata, a questo punto dove potete arrivare, visto che dovete fare le due gare con Matelica, c'è anche quella d'andata da fare. Sì, abbiamo adesso queste tre partite, due fuori e una in casa, però io prima di Matelica e del Pinedo penserei da martedì al San Marino, che è una partita difficile su un campo importante. noi veniamo da dieci risultati, se non sbaglio, importanti, quindi ci prepariamo per affrontare questa partita con la determinazione che ci sta contraddistinguendo. Senti, giocare più vicino alla porta è più bello, oltre che più fruttifero per te? Ma guarda, io nella mia carriera ho sempre giocato o da vertice basso o dietro la punta. Un anno ho fatto 19 gol dietro la punta e sono riuscito ad andare in Serie B a Grosseto. Sì, effettivamente mi piace di più, però sto a disposizione dell'allenatore, se un allenatore preferisce Cerone in un'altra posizione io mi metto a disposizione sua e della squadra.